Saranno mille i partecipanti alla quinta edizione della camminata tra gli olivi che si svolgerà ad Andrea in contemporanea e ad altre città dell'olio italiane domenica prossima nella tenuta del conte Onofrio Spagnoletti Zeuli. È importante partecipare per trasmettere dei messaggi innanzitutto di valorizzazione e rivalutazione di tutto il nostro patrimonio a partire anche da quello agricolo, ma più che quello agricolo, quello legato proprio alla nostra tradizione per eccellenza che è la riscoperta degli olivi e tutto ciò che questo significa. È importante trasmettere anche un messaggio che vada nella direzione della mobilità alternativa e sostenibile e quindi anche turistico-culturale perché passeggiare significa ammirare, ammirare significa scoprire, scoprire significa conoscere tutto ciò che ci circonda. Quindi abbiamo puntato su questa iniziativa che tra l'altro ha riscosso sin da subito tanta attenzione come per le edizioni precedenti. Credo che abbiamo fatto la prima, già da me, adesso facciamo la quinta. La quinta, la quinta. Beh è un discorso anche ambientale, no? Tutti gli stranieri che vengono qui da noi e vedono questo meraviglioso giardino, perché si può chiamare giardino di olivi, rimangono impressionati. Quindi è bene che anche gli andriesi e tutti quelli del nostro territorio vengano a conoscere di più quello che c'è dietro una bottiglia, il lavoro che c'è e questi meravigliosi alberi che sono l'albero più importante che il Padre Eterno ci ha dato. Uno sguardo privilegiato nel tesoro di questa terra, l'area aperta e con uno sfondo importante dedicato alla solidarietà. L'intero ricavato sarà infatti devoluto a cinque associazioni del territorio che si occupano di attività sociali. Tra queste c'è anche l'associazione Giorgia Lomuscio, presente sin dagli albori di questo evento. Questa quinta giornata sarà una bellissima giornata perché stiamo avendo un feedback positivo. Tanta gente vuole iscriversi, probabilmente perché si ha bisogno di stare all'aperto ancora di più rispetto a prima. Camminare tra gli olivi è sempre una bellissima esperienza, soprattutto qui nel nostro territorio, insomma, al territorio di Andria che è pieno di olivi, quindi perché no passare una giornata in compagnia con l'obiettivo anche di sostenere queste associazioni. Una edizione che in tanti, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo di Città, hanno voluto chiamare della ripartenza dopo quasi due anni davvero complessi a causa della pandemia in atto da Covid-19. È un evento che è inquadrato all'interno dell'Associazione Nazionale di Città dell'Olio, di cui noi siamo soci, siamo partecipanti. Ebbene si coniuga anche con il riconoscimento di Spighe Verdi che abbiamo avuto anche quest'anno, quindi all'insegna di un turismo sostenibile, perché innanzitutto, non solo del turismo sostenibile, ma anche del turismo dell'olio, che è uno degli obiettivi che questa amministrazione si è data di raggiungere. Grazie. Grazie.